Andremo ora a analizzare un altro elemento definito squadra o L-sit che richiede sia una buona mobilità sia una buona preparazione fisica a livello delle spalle e di tenuta delle braccia tese. Tra gli esercizi di scioltezza attiva utili per allenare questo tipo di esercizio abbiamo gli slanci a gambe tese quindi con appoggio del braccio teso a una sbarra un supporto fisso eseguiamo degli slanci della gamba e tenuta della gamba sollevata. Mi raccomando sempre la schiena e le gambe devono essere dritte in posizione retta quindi dobbiamo immaginare una linea retta che collega la testa ai nostri talloni e la gamba sotto e sia la gamba sotto che la gamba sopra devono essere sempre mantenute tese. Un altro esercizio utile per allenare e rinforzare lo psoas e i plessori dell'anca è un esercizio di scioltezza attiva eseguito a terra questa volta posizionando le mani all'altezza delle ginocchia o poco oltre rendendolo più complesso solleviamo prima una gamba poi l'altra ed entrambe insieme mantenendo anche la posizione statica di tenuta allenando sia l'addome che gli ipsos sempre funzionale diciamo per l'elsit. A questo punto andiamo a concentrarci invece direttamente su alcuni esercizi che si avvicinano di più alla posizione della squadra vera e propria cercando la spinta sulle braccia tese e le spalle ben tenute in spinta solleviamo il bacino e torniamo solleviamo e torniamo. Ora rendiamo la posizione diciamo studiamo direttamente la posizione della squadra rendendolo leggermente più facile questo esercizio perché è eseguito sopra a un rialzo come ad esempio queste parallele. Quindi sempre in posizione di spinta con le braccia tese solleviamo le gambe flesse e teniamo questa posizione cercando di creare un angolo di 90 gradi delle gambe. Mi raccomando non è il busto che si deve avvicinare né dobbiamo incassare le spalle ma le spalle e la schiena devono essere sempre dritte quindi non è il busto che si avvicina alle gambe ma sono le gambe che si sollevano. Un'evoluzione di questo esercizio sarà lo stesso tipo di esercizio ma eseguito con una gamba flessa e l'altra tesa quindi avvicinandoci di più alla posizione di lsit vera e propria fino a raggiungere la posizione di tenuta in lsit.